allora buonasera e iniziamo questa lezione che apre l'ultimo argomento del corso ok quindi noi abbiamo concluso con le video lezioni pubblicate la settimana scorsa anche la parte di teoria riprenderemo la teoria ancora nelle ultime settimane quando faremo un po di esercizi preparazione dell'esame qui stiamo preparando anche delle dispense in cui avrete degli esempi di esercizi simili a quelli che potreste trovare l'esame sia di teoria che di programmazione e ci rimane quest'ultimo argomento che è affrontato dalla unità 8 di programmazione dopo di che conto di chiudere diciamo concludere in questa settimana dopo di che diciamo ci dedichiamo solamente più degli esercizi in preparazione dell'esame quello che rimane la settimana prossima più ciò che rimarrà nel mese di gennaio allora oggi è un titolo un po sibilino questa unità 8 strutture dati complesse perché in realtà riassume insieme due o tre argomenti diversi in un certo senso sull'esame le domande che vedo nella chat sull'esame magari prendiamo vi rispondo domani che abbiamo un pochino più di tempo avendo le tre ore ok quindi dedichiamo un po di tempo all'inizio delle lezioni domani a parlare di ciò che sappiamo dell'esame allora cosa vogliamo scoprire in questa ultima unità essenzialmente due tipi di dato nuovi due tipi di contenitori nuovi che sono i cosiddetti insiemi edizionali noi abbiamo conosciuto già nella prima lezione dalla prima settimana il tipo di dato stringa che conteneva caratteri poi abbiamo imparato il tipo di contenitore lista che poteva contenere qualunque cosa e quindi ci siamo siamo così sbizzarriti nel creare liste di vari tipi di numeri eh stringhi ma anche liste di liste e adesso aggiungiamo alla nostra ehm di cassetta degli attrezzi due nuovi tipi di contenitori che sono appunto l'insieme e il dizionario li vediamo insieme eh perché di fatto il dizionario è un po' come se fosse un'estensione dell'insieme ehm come vedremo tra un attimo quindi eh il dizionario sicuramente è una struttura dati molto più utile e ve ne sarete accorti eh quando parleremo del dizionario eh ricordate gli esercizi che avete fatto nell'ultimo laboratorio e vedremo che questa struttura dati ci ci avrebbe aiutato a risolvere gli esercizi in un modo eh magari non più breve ma sicuramente più chiaro no? Eh abbiamo usato le liste in modo forse un pochino forzato quando dovevamo avere che sono le liste di vari tipi di 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 informazioni che viaggiavano in parallelo una con l'altra no? Eh pensavo ad esempio ai clienti e al prezzo che avevano speso erano in due liste separate ma solo noi sapevamo come doveva gestire ehm ma ci arriveremo e partiamo dal dal primo tipo di dato che è quello degli insiemi eh non è estremamente utilizzato però 90% di ciò che impareremo sull'insieme ci servirà anche per per poter gestire il dizionario quindi vediamoli è tutto sommato eh diciamo così sono relativamente semplici allora che cos'è un insieme? Insieme è un contenitore quindi un contenitore che contiene altri dati come se fosse una lista eh è la caratteristica principale che raccoglie dei valori univoci cioè all'interno di un insieme non è mai possibile avere due volte lo stesso elemento se io ho una lista posso avere degli elementi uno due tre poi nuovamente due 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 poi nuovamente tre non c'è nessun problema in un insieme ciascun elemento può esserci una sola volta o c'è o non c'è se c'è c'è il massimo una sola volta ehm che così come siamo tutto sommato siamo abituati dalla definizione matematica di insieme no? Insieme aperta graffa contiene degli elementi ma eh ogni elemento non può essere ripetuto più di una volta all'interno dell'insieme questa è una caratteristica che ci può servire mh pensate eh volta scorsa dove c'era da eh lavorare sulla parola chiave per crittografare il testo no? Dovevamo eliminare le doppie eliminare gli elementi doppi ecco in questo caso se prendo un elenco di un insieme di elementi lo metto dentro un insieme automaticamente l'insieme non potrà avere dei doppi e li ho automaticamente eliminati no? Tanto per avere qualche idea applicativa delle cose che possono servire questi insiemi eh il difetto degli insiemi se vogliamo chiamarlo difetto ma chiamiamolo più caratteristica è che all'interno dell'insieme gli elementi non hanno eh non hanno nessun ordine particolare eh quindi quando io metto gli elementi in una lista io so esattamente se l'ho messo nella posizione zero uno due tre e quando faccio appendere sono sicuro che lo aggiungo in fondo all'interno di un insieme invece gli elementi vengono inseriti vengono ricordati ma quando poi li estraggo li vado diciamo così a leggere per stamparli o per elaborarli eh possono saltar fuori in un ordine diverso da quello in cui erano eh stati inseriti ehm e questo vuol dire che non si può accedere per posizione agli elementi di un insieme non posso dire il primo elemento il secondo elemento di un insieme questa nozione non ha senso nel caso degli insiemi ok? Adesso vedremo come poter fare invece ad accendere accedere semplicemente iterando ma iterando in un ordine che che non sarà sotto il nostro controllo non dipende sicuramente dall'ordine di inserimento né dall'ordine alfabetico ma da un ordine interno che decide eh l'interprete Python in autonomia. Cosa ci posso fare su un insieme? Beh posso fare ciò che faccio come operazioni matematiche definite sugli insiemi chiaramente eh che vedremo come si chiameranno eh in Python ma c'erano insieme la unione l'intersezione il complemento eccetera eccetera ehm ma eh il vantaggio di queste strutture dati è che tendono ad essere molto più efficienti no? Eh più efficienti nell'elaborare proprio degli insiemi di valori proprio perché hanno una struttura dati ottimizzata no? Per questo scopo eh fare le stesse operazioni che possono farlo insieme facendole attraverso delle liste si può ma normalmente è più lento quindi vengono usati spesso in questi in casi specifici. Ehm beh qui c'è un un esempio no? Rapportato dalle slide eh dove ci fa vedere per ogni diciamo così bandiera no? Di varie nazioni qual è l'insieme eh l'insieme dei colori quindi questi sono i colori eh del UK, i colori del Canada e i colori dell'Italia eh sono tre insiemi diversi eh il colore del UK contiene tre elementi che sono il blu, il rosso, il bianco, il colore del Canada contiene il rosso, il bianco, l'insieme corrispondente ai colori della bandiera canadese contiene il rosso e il bianco e la bandiera italiana contenerà eh rosso, bianco e verde. Sono elementi in questo caso sono insiemi che contengono colori. Eh quando io dico quali sono i colori che io dica eh blu, bianco e rosso o che dica rosso, bianco, blu o bianco, blu e rosso eh sto rappresentando gli stessi identici colori no? quindi l'ordine con cui ehm diciamo così elenco gli elementi non ha assoluta, non ha alcuna rilevanza, non ha alcuna importanza nella qualificare l'insieme, ok? Quindi se io disegnassi un altro insieme qui questi questi elementi sono disposti in modo diverso all'interno di questo ovale sarebbe comunque lo stesso insieme. Questo dobbiamo ricordarcelo come come modello mentale. Eh l'altra cosa che ovviamente i colori non sono mai duplicati nel senso che io non dirò che il blu c'è, c'è tante volte il blu, no? Il blu c'è, punto e basta, anche se in realtà sono tanti triangolini blu, io rappresento i colori dicendo che sicuramente il colore blu è rappresentato. Questo concetto in in Python come lo rappresentiamo? Eh possiamo costruire un insieme usando eh una sintassi che utilizza le parentesi graffe. Quindi così come usiamo le parentesi quadre per creare una lista, le parentesi tonde per creare una tupla, le parentesi graffe le usiamo invece per creare un dizionario. Ok? Eh quindi aperta graffa e elenco gli elementi che cadono in dizionario separandolo da virgola così come se come se stessi creando una lista, una tupla come già abbiamo imparato. Semplicemente il fatto di usare una parentesi graffa come elemento sintattico fa sì che venga creato un oggetto di tipo insieme. quindi qua graficamente è stato rappresentato come elementi Luigi, Gambis e Spani non sono il primo, il secondo, il terzo elemento di un'ipotetica lista, di un'ipotetica elemento. No, sono tre elementi che sono tutti e tre dentro l'insieme. Non sappiamo quale sia prima e quale sia dopo. Un altro modo di costruire un insieme è usare la funzione set. La funzione set può prendere un altro tipo di contenitore oppure una lista di elementi oppure un contenitore come potrebbe essere una lista, vedete che qua sotto è definita una lista che si chiama names e con la funzione set prendo la lista e la converto in un insieme. Quindi cast sarà l'insieme che contiene gli stessi elementi che erano presenti nella lista, ovviamente dimenticando nell'ordine e cancellando gli eventuali duplicati. Questa è l'operazione, una cosa succede quando trasformo una lista in un insieme. Dimentico l'ordine in cui erano gli elementi e per contro elimino gli eventuali duplicati. Quindi creare un insieme si fa o con la parentesi graffe oppure con la funzione set. Così come creare una lista si poteva fare con la funzione list oppure con la parentesi quadre. Se metto tra le parentesi graffe due volte lo stesso elemento lui lo elimina da solo? Assolutamente sì. Lo possiamo anche vedere in modo interattivo nella console. Se io provassi a costruire un elemento, un insieme A uguale 3, 5, 8 ad esempio, stampo A e lui mi stampa l'insieme 8, 3, 5 e manco a farlo apposta, manco a farlo apposta, me l'ha stampata in un ordine diverso da quello in cui l'avevo inserito. Proprio per ribadire il fatto che l'ordine con cui gli elementi sono memorizzati nell'insieme è gestito dall'interprete Python per ottimizzare le operazioni sugli insiemi e non c'entra nulla con l'ordine con cui l'avevo creato. Gli elementi sono questi ma sono in un ordine diverso. Se io però provassi a creare l'insieme B in cui ho 3, 5, 8, poi di nuovo 5, poi di nuovo 8, poi 2, quando provo a stampare l'insieme B il 5 che ho cercato di inserire non è un errore provare ad inserirlo ma ovviamente l'insieme lo elimina questo duplicato. Se io avessi costruito questa come, chiamiamola, se riesco a prendere il cursore, C come lista, quindi con le parenti di quadre anziché le parenti di graffe, allora ovviamente C avrebbe mantenuto l'ordine degli elementi che anche qui, anche nel caso di B è stato distrutto o rimescolato, avrebbe mantenuto l'ordine degli elementi e anche i duplicati degli elementi. Se io poi posso provare a convertire la lista C in un insieme, mi ritroverò lo stesso insieme che ho chiamato prima B in cui vedete che nella trasformazione da lista C a insieme ho buttato via in automatico i duplicati. Emanuele mi chiede se si può usare set da una stringa punto split, certo perché no, è una lista, una split mi dà una lista di stringhe e posso costruire un insieme di stringhe a partire da una lista di stringhe, sicuramente si può fare, anzi se ci serve lo faremo, in questo caso troveresti le parole diverse tra di loro inizialmente appartenenti alla stringa. Luca invece mi chiede se chiedessi una posizione tipo A di tre, beh a parte che A aveva solo tre elementi, quindi possiamo prendere il secondo elemento, il secondo elemento mi dice che non posso, mi dice che l'oggetto set non è subscriptable, scusa, che in tradotto in italiano significa che non posso indicizzare, non c'è un pedice che potrei usare per indicare il primo, il secondo, il terzo elemento. Posso, come mi chiede Samuele, ordinarli, nel senso che se io ho A o un insieme, potrei provare a ordinare questo insieme A, sorte di A, me lo dà ordinato, che non è più nell'ordine di inserimento però, è l'ordine numerico, ma come vedete me l'ha stampato sotto forma di lista, cioè per potermi dare degli elementi che avesse un ordine deciso, definito, ha dovuto inserirli sotto forma di lista e non più sotto forma di insieme. Quindi gli elementi di insieme non hanno un ordine e se li voglio li posso riordinare, ma sulla base di un criterio che non è più il criterio di inserimento. Cioè questo, dove è andato? Questo ordine con cui li avevo inseriti è dimenticato per sempre nel momento stesso in cui li ho inseriti, ok? Quindi quando li estraggo li posso estrarre, posso da un insieme A, posso estrarre una lista degli elementi di A ovviamente, quindi trasforo, così come ho trasformato una lista in un insieme, posso trasformare un insieme in una lista e questo mi darà una lista che contiene gli stessi elementi che avevo messo dentro A. Nell'ordine che capita essenzialmente, l'ordine che l'insieme ha deciso di generarmi. Quindi non stupiamoci se questi vengono rimescolati nelle normali operazioni. L'unica limitazione aggiuntiva è che non tutti i tipi di dato possono essere inseriti all'interno di un insieme. Cioè mentre dentro una lista, vi ho detto molto apertamente, dentro una lista potete mettere qualunque cosa. Dentro un insieme invece non si possono mettere tutti i tipi di date. In particolare all'interno di un insieme, per come implementato internamente, potrei usare, devo usare dati che siano solamente immutabili e confrontabili tra di loro. In realtà il criterio tecnico è un pochino più complicato, quindi chi è interessato può andare a cercare di decodificare ciò che c'è scritto in questo indirizzo, ma per i nostri scopi diciamo che all'interno di un insieme io posso inserire dei numeri, numeri interi, numeri reali, stringhe, tuple o vabbè oggetti di fatto non impariamo a usarli, quindi lasciamo perdere. Ma invece non possiamo inserire come elementi di un insieme una lista, un dizionario, un file o un altro insieme e così via. Quindi normalmente un insieme può contenere oggetti elementari, diciamo così, e non oggetti a loro volta composti. Per ragioni tecniche di come è implementato internamente. Perché poter identificare esattamente se un elemento appartiene o no all'insieme, quell'elemento non deve poter cambiare una volta che è stato inserito nell'insieme. E deve poter essere efficiente e veloce da parte dell'interprete Python poter determinare se due elementi sono identici oppure no, perché continuamente starà facendo confronti tra gli elementi dell'insieme. Le tuple ci stanno dentro, sì, come dice Gironomo, perché sono immutabili, quindi sono una versione immutabile di una lista e quindi posso inserire una tupla all'interno di un insieme, se mi serve. Quindi insieme di tuple si possono fare. Una precisazione in risposta a Daniele che mi dice che quando crea una lista a partire da un insieme l'ordine non è propriamente casuale. Se io dicessi che l'ordine è casuale vorrebbe dire che ogni volta che estavo gli elementi vengono fuori in un ordine diverso, casuale. Invece l'ordine in realtà è ben definito, ma è definito da algoritmi interni delle interprete di Python che io non conoscendo non riesco a prevedere. Tra l'altro possono cambiare tra versione e versione di Python. Quindi è un ordine non prevedibile, un ordine non dichiarato, un ordine arbitrario, ma non userai la parola casuale, perché casuale mi sembra di poter estrarre dei numeri casuali, invece no, così non è. Quello stesso insieme se lo converto in lista mi viene fuori sempre nello stesso modo, ma se poi cambio computer o cambio versione di Python potrebbe venire fuori in modo diverso. Quindi non devo poter contare su quell'ordine, né sul fatto che sia sempre uguale, né sul fatto che sia sempre diverso. Semplicemente nei miei ragionamenti non devo mai far conto sulla conoscenza dell'ordine con cui arrivano gli elementi. Se mi serve ordinarli, li estrago e li trasformo in una lista e poi da quella lista ordino come mi piace. Dettaglio di sintassi. Quando io devo creare un insieme, dovessi creare un insieme vuoto, siamo abituati, se creo una lista vuota poi ci appendo gli elementi dentro, la stessa cosa potrò fare per l'insieme, non posso usare quella sintassi con le parentesi graffe, aperte e chiusa graffa, perché in realtà lo vedremo tra poco, la sintassi aperta e chiusa graffa crea un dizionario vuoto e non un insieme vuoto. Poiché anche vedremo che i dizionari usano anch'essi la parentesi graffe per indicare la costruzione dell'oggetto di tipo dizionario rispetto al tipo insieme. Nel caso in cui non ci siano elementi, i progetti di Python hanno deciso che le graffe vuote creano un insieme, un dizionario vuoto e non un insieme vuoto. E quindi per creare un insieme vuoto semplicemente useremo, siamo obbligati a usare la funzione set per crearlo senza elementi. E poi questi elementi li possiamo aggiungere poco per volta. Poi, come tutti i contenitori, posso conoscere quanti elementi sono presenti usando la funzione len, ma la len ormai sappiamo che si può applicare a qualunque cosa, string, list, tuple e adesso anche insieme, mi dà semplicemente il numero di elementi presenti. Posso verificare, vediamo che operazioni posso effettivamente fare dentro questi insiemi, di questo nuovo tipo di contenitore. Allora, posso innanzitutto, ricordate, in matematica noi abbiamo, la prima cosa che abbiamo imparato in matematica è sapere se un certo elemento A appartiene a un insieme A grande, oppure non appartiene. Quindi questa è l'operazione più semplice che possiamo fare con l'insieme. Vedere se un elemento c'è oppure no. Questo lo possiamo fare con l'operatore IN. Quindi lo stesso IN che andava a cercare se un carattere era presente in una stringa, lo stesso IN che andava a cercare se un elemento era presente, una stringa, un numero era presente all'interno di una lista, ecco, quello stesso IN lo usiamo per andare a vedere se un elemento è presente o no all'interno di un insieme. Oppure, vabbè, chiaramente NOT IN che è l'operatore inverso che va a vedere se non confronta. Quindi questo in Python lo chiamiamo IN, questo in Python lo chiamiamo NOT IN. E ovviamente sulla sinistra ci sarà un elemento che vogliamo sapere se è presente all'interno dell'insieme, e l'insieme invece è rappresentato a destra dell'operatore del IN. Ovviamente il risultato sarà un booleano vero o falso che dipende dal fatto che l'elemento effettivamente ci sia oppure no. Quindi questo è l'operatore più semplice. E un'estensione del concetto di contenimento è del del IN, diciamo così, la possiamo usare per accedere agli elementi dell'insieme. Abbiamo appena visto, abbiamo appena ricevuto un bel gentile errore che io non posso in un insieme andare a accedere a un singolo elemento, non si può fare, mi dà un errore. E allora come faccio a sapere cosa c'è dentro un insieme? Uno può dire, eh, lo converti in una lista e vai a vedere la lista. E va bene, però tanto vale allora usare le liste in ogni insieme. Io non posso accedere a un singolo elemento perché non esiste la nozione di primo, secondo o terzo, perché non esiste un ordine degli elementi stessi. Però posso comunque iterare, ciclare sugli elementi con un for in, così come ciclerei sugli elementi di una lista, o sugli elementi di una tupla, o sugli caratteri di una stringa, o sulle righe di un file. For in, ormai l'abbiamo capito, che è in grado di iterare su qualunque tipo di contenitore, su qualunque tipo di collection. In questo caso anche sull'insieme. Ovviamente questo ciclo for stamperà i caratteri nell'ordine che vuole lui. Di nuovo, lo stesso ordine che abbiamo visto interattivamente, però possiamo estrarre i caratteri uno alla volta e utilizzarli, i caratteri o comunque gli elementi... Scusate, qui questo character, lo sto traducendo male in italiano, l'esempio prima erano degli personaggi in un film, questi qua, Luigi, Spine e Gambis, e quindi character indica il personaggio, non il carattere. Attenzione, questo character qua è il personaggio che è scritturato all'interno del cast di quel determinato film. Non stiamo parlando di singoli caratteri, stiamo parlando di elementi in generale, che in questo caso sono stringhe, che rappresentano, in questo caso, nomi di personaggi, all'interno dell'insieme. Quindi non posso accedere al singolo elemento, ma posso ciclare sugli interi elementi. Sul singolo elemento posso solamente sapere se esiste, se non esiste, con l'operatore in, di appartenenza, oppure ciclare e analizzarli una per volta. Quindi in questo caso, questa stampa di queste tre righe di codice, nonostante noi abbiamo costruito l'insieme con i tre nomi, prima Luigi, poi Gambis e poi Spine, lui me li stamperà in un ordine che può essere diverso da quello in cui li ho inseriti, ma ormai la cosa dopo aver visto qualche esempio, non ci stupisce più. L'importante è che viene lì a tutti. L'ordine è arbitrario, ma gli elementi ovviamente sono loro, sono corretti. Se io li volessi proprio visualizzare, come abbiamo visto prima nell'esempio, potrei di fatto usare sorted, che quando riceve un set, l'abbiamo già visto prima nell'esempio, converte l'insieme in una lista e mi restituisce la lista ordinata, la versione ordinata in una lista. Ricordiamoci che l'ordinamento viene fatto in questo caso a posteriori, a posteriori e non a priori, cioè è l'ordinamento che viene fatto sulla base dei valori, che se io li posso ordinare alfabeticamente, ma non più l'ordine con cui li ho inseriti, l'ordine posizionale con cui ci siamo abituati ragionando sulle liste, questo se lo dobbiamo dimenticare, non si può più ripostruire. Filippo mi chiede se esistono insiemi di insiemi, no, la risposta è no, perché l'insieme non essendo immutabile non può essere un elemento di un altro insieme, quindi gli insiemi sono solamente di stringhe, numeri, tuple e basta praticamente, per i nostri casi. Quali operazioni possono? Allora dicevo che appunto, agganciandomi a questa domanda, un insieme è una struttura dati mutabile, quindi si può modificarli insieme, quindi noi l'abbiamo creato, l'abbiamo iterato, l'abbiamo stampato, l'abbiamo ordinato, l'abbiamo convertito in una lista, ma poi come facciamo ad aggiungere o togliere un elemento? Ecco, aggiungere elementi si può, basta usare il metodo add, e qui dobbiamo ricordarci di questi metodi, perché nel caso delle string, delle liste, si chiama append, aggiungere un elemento, nel caso di un insieme invece si chiama add, ha un nome diverso, perché append si porta dietro un concetto di ordine, aggiungilo in fondo, mentre add aggiunge nel mucchio, lo mette insieme agli altri, quindi si chiama in modo leggermente diverso, ma funziona alla fine come un append, nel senso che alla fine, se da questo insieme cast, rappresentato la figura numero uno, aggiungo Arthur, otterrò l'insieme della linea numero due, in cui ci sono i tre elementi che avevo già prima, più quello che ho appena aggiunto. Se invece cercassi di aggiungere un elemento che già c'è, come sulla linea numero due a questa, vedo che dopo l'esecuzione di questa linea, l'insieme non è variato, perché ho cercato di aggiungere un elemento che già c'era. Questo non causa nessun errore, ma ovviamente l'elemento non viene aggiunto, non viene creato, perché dovrebbe creare un doppione, cosa che non è possibile. Antonio mi chiede, se convertendo una lista in un insieme, rimuove tutti i duplicati? Sì, se la lista contiene elementi che possono stare in un insieme, quindi una lista di numeri, una lista di string, eccetera, contiene tutti i duplicati, attenzione, effetto collaterale, rimescola la lista, nel senso che poi non lo ottieni nello stesso ordine di prima. Ok, quindi questo era l'add, aggiunge un elemento, il contrario di add è, si chiama qua discard, che cancella un elemento, e toglie un elemento da un insieme. Questi metodi sono metodi che modificano l'insieme stesso, non stanno creando un nuovo insieme che abbia un elemento in più o che abbia un elemento in meno, modificano l'insieme stesso. Il discard è l'equivalente del remove che avevamo sulle liste. Qui capisco un po' meno il perché l'abbiano chiamato in modo diverso, ma comunque hanno scelto di add e discard per gli insiemi, e invece append e remove sulle liste. Ovviamente il metodo pop delle liste che riceveva come parametro l'indice da cui cancellare, qui non lo vedremo mai, ok, perché non esiste l'indice, non esiste la posizione. E quindi anche il discard, se l'elemento c'è, lo elimina, se l'elemento non c'è, non fa nulla, non ha nessun effetto, non modifica l'insieme, non è errore. Mi diceva, forse questa è una differenza, perché il remove invece, se l'elemento non c'era, si arrabbiava. E infatti anche qui c'è il metodo remove, che si usa forse di meno, perché ha la differenza rispetto al discard che se l'elemento non ci fosse, viene e genera un'eccezione. Quindi remove ce l'abbiamo sia sulle liste che sugli insiemi. Sulle liste di fatto è l'unico per rimuovere un elemento conoscendone il valore, ma l'elemento deve esistere. Infatti molto spesso controllavamo if elemento in lista, lista.remove. Qui c'è anche, ma si preferisce spesso usare il discard, che se l'elemento non c'è, non genera un'eccezione. Poi ovviamente dipende dai casi, dai nostri casi, da cosa deve fare il programma, se ci interessa essere sicuri di cancellare un elemento che prima esisteva, oppure, diciamo così, ci va bene che il tentativo di cancellare qualcosa che già non esiste non dia nessun problema. se invece volessi cancellare tutti gli elementi, allora rimuoverli tutti, ho il metodo clear, il metodo clear esiste già anche per le altre collection, anche per le liste, c'è lista.clear che elimina tutti gli elementi della lista senza crearne una nuova vuota, ma azzera l'insieme corrente oppure azzererebbe la lista corrente. Altre operazioni di confronto, in questo caso, sotto insieme, io posso definire più insiemi e poi posso chiedermi se un insieme è un sotto insieme di un altro insieme dato oppure no. La definizione la sappiamo dalla matematica, è un sotto insieme di un altro insieme B se tutti gli elementi di A sono anche negli elementi di B. In questo caso, ad esempio, la bandiera canadese l'insieme dei colori della bandiera canadese è un sotto insieme dell'insieme dei colori della bandiera britannica. Questo in Python si può interrogare con il metodo che si chiama isSubset. Il subset è un metodo che si applica a un insieme e riceve come parametro un altro insieme e si chiede se il primo insieme, uno, è un sotto insieme del secondo insieme, due, che viene passato come parametro della subset. questa qua restituirà vero o falso a seconda che il primo insieme sia un sotto insieme del secondo oppure no. Può capitare, nel senso che per controllare se ci sono degli elementi nuovi, se ci sono degli elementi in una determinata collection che non siano presenti in un'altra. Se io invece non voglio controllare il sotto insieme, voglio controllare l'uguaglianza, l'identità, posso usare gli operatori uguale e diverso direttamente. Quindi l'operatore di uguaglianza potevamo già anche usarlo sulle liste, se vi ricordate. Sulle liste dicevamo due liste sono uguali se contengono gli stessi elementi nello stesso ordine. Sugli insiemi, ovviamente, la parte dell'ordine la cancelliamo e diremo che due insiemi sono uguali se contengono esattamente gli stessi elementi. Quindi nessuno dei due ha elementi in più o elementi in meno rispetto all'altro. Quindi ricordavate quegli esercizi in cui avevamo due liste, dovevamo verificare che gli elementi in una lista fossero nell'altra e viceversa. Qui si sarebbe fatto in un attimo perché bastava convertire le liste in insiemi e vedere se c'erano degli elementi in più. Tanto in quell'esercizio di due laboratori fa non ci interessava, anzi, ci davano fastidio il fatto che esistessero gli elementi duplicati. Era meglio, infatti, dobbiamo proprio cancellare i duplicati e controllare. Qui sugli insiemi si fa molto più in fretta questo tipo di confronto. Quindi il confronto è tipo chi c'è e chi non c'è, quali elementi ci sono e quali non ci sono. Ragionando sugli insiemi sono operazioni che avvengono, diciamo così, istantaneamente. Sia proprio mentalmente, non dobbiamo pensarci, non dobbiamo fare dei cicli complicati, sia in realtà anche algormicamente sono molto efficienti, molto veloci da implementare. Quindi alcune operazioni vengono meglio con le liste, altre vengono meglio con gli insiemi, ovviamente per fortuna possiamo passare facilmente da una all'altra. Emanuele mi chiede come faccio a sapere quanti elementi ci sono in un insieme, posso sicuramente urlare l'en, l'abbiamo visto prima. la funzione per guardare l'insieme, is subset, è qua, ma ce l'avete tutte sulle slide. Quindi l'uguaglianza, identità, quindi stessi elementi nei due insieme. le operazioni semistiche e matematiche, quelle famose, no? Che impariamo nei corsi di matematica, unione, intersezione e complemento, hanno che qua, sono implementate anche qua con dei metodi, quindi fare l'union di un insieme con un altro insieme, significa aggiungere il primo insieme a tutti gli elementi che sono nel secondo. Attenzione che viene modificato solo il primo, il secondo viene mutato, quindi a differenza di matematica, noi scriviamo C uguale A unione B, ad esempio, e allora otteniamo il nuovo insieme C, che contiene gli elementi che stavano sia in A che in B, ma A e B stessi non vengono modificati. La stessa cosa succede qui, nel senso che abbiamo il primo insieme, il secondo insieme, e union costruisce un nuovo insieme, forse prima ho detto la parola sbagliata, union costruisce un nuovo insieme, quindi non modifica nel primo, nel secondo, e costruisce un nuovo insieme, lo restituisce, e questo insieme sarà costituito dagli elementi dei primi, due, eventualmente, ovviamente, eliminando i duplicati che risulterebbero dall'unione di questi insiemi, quindi questo terzo ovviamente è l'unione degli elementi che compaiono una sola volta nei due elementi di partenza. Quindi è come un operatore matematico che dà il risultato senza modificare gli operandi. A differenza del LAD e del REMOVAL, del DISCARD, che invece modificavano l'insieme stesso. La stessa cosa succede con l'intersection, intersezione, prende un insieme, un insieme A, un insieme B, e mi calcola, insieme chiamiamolo C, come A intersecato B. Qui cosa sto scrivendo? C uguale A intersecato B. Anche qua mi dà gli insiemi comuni, dove ovviamente comuni devono essere esattamente lo stesso elemento, quindi se sono stringhe, devono essere esattamente le stringhe scritte nello stesso modo, con le stesse maiusci, con le stesse spaziature, eccetera, eccetera. Va a controllare l'identità dei singoli elementi interni. Oppure c'è il complemento, non riusciamo a implementarlo così come il complemento di un insieme matematico, perché in matematica tu dici il complemento di un insieme è tutti gli elementi che non fanno parte dell'insieme di partenza, ma tutti gli elementi di quale è un universo, un universo potenzialmente amplissimo. Invece posso fare la differenza tra un insieme e un altro insieme, che toglie dal primo insieme gli elementi che stanno nel secondo. E questo può essere usato essenzialmente per fare il complemento se il primo insieme, quello di partenza, contiene tutti gli elementi possibili e immaginabili, allora sottrago quel di un altro e ottengo il complemento. Quindi l'operatore complemento in quanto tale non si può definire se non è definito un universo. Definiamo l'operatore differenza, quindi in matematica lo si scrive spesso anche come A meno B tra due insiemi, oppure alcuni scrivono A barra con una barra a rovescio B per indicare gli elementi di A che non sono in B. Tornando alla domanda di Lorenzo, mi chiede cosa capita se l'intersezione è nulla, mi dà l'insieme vuoto, non è un errore intersecare due insiemi che non abbiano nessun elemento in comune. Così come se io faccio la differenza tra un insieme e un secondo insieme che contiene tutti gli elementi del primo, otterrò come risultato l'insieme vuoto, cioè l'insieme che contiene zero elementi, l'insieme di lunghezza zero, da cui il len vale zero. E va bene, è un insieme come tutti gli altri, nessuna operazione sugli insiemi può creare dei conflitti, degli errori. Matematicamente non è previsto, diciamo così, che queste operazioni possano generare degli errori. Quindi questa tabellina riassuntiva ci dà uno specchietto che ci riassume tutte le operazioni che possiamo fare sugli insiemi, così anche chi di voi ha detto, tornami alla slide precedente, in realtà qua le troviamo tutte, crea un insieme vuoto, crea un insieme a partire da un altro tipo di sequenza, quindi che potrebbe essere una lista, potrebbe essere una tupla, potrebbe essere una stringa, in questo caso ovviamente avrebbero estrati singoli caratteri, potrebbe essere un range, oppure lo costruisco con la sintassi, diciamo così esplicita, elencando tra parenti di graffe gli elementi che voglio creare. La lunghezza, l'appartenenza, l'aggiunta e la rimozione di un elemento, e discard, remove, vedete che sono esattamente la stessa cosa, l'unica differenza è come si comportano nel caso in cui l'elemento non esista, dove discard non fa nulla e remove genera un'eccezione. Clear riporta l'insieme a insieme vuoto, così come avrei costruito l'insieme vuoto qua, l'insieme esistente cancella tutti gli elementi, il subset è l'operatore sotto insieme, l'uguaglianza è la differenza, unione, intersezione e differenza tra insiemi. Qui sono tutti gli operatori, diciamo così, che hanno senso sugli insiemi matematici mappati sugli insiemi del linguaggio Python. Ok, questa è un'altra pagina presa da un altro sito che ha qualche operazione in più, se volete andare a vedere sono altri metodi in più, ma essenzialmente quelli di base che ci interessano possono essere questi. Allora, a cosa può servirci questa nuova struttura dati? Ad esempio, qui le slide ci suggeriscono un caso in cui noi vogliamo verificare che all'interno di un documento le parole siano scritte in modo corretto, il correttore ortografico, lo spell checker. Cioè io ho un file che contiene un testo e da questo file voglio leggere delle parole e verificare che queste parole coincidano con quelle che sono presenti in un dizionario, ad esempio. Quindi vediamo di prendere un esempio, fatemi estrarci, scusatecelo, su un progetto diverso che dovrebbe essere... Un attimo qua. No, scusate, non ce l'ho su questo computer, come l'ho detto. Datemi un secondo, che lo vado a prendere. Supponiamo di avere un file che contiene delle parole, quindi facciamo qua una nuova cartella qua dentro dove chiamiamo spell check e proviamo a implementare un programma di controllo ortografico. Immaginiamo di avere un file che io ho scaricato che chiamo parole, che è un file di testo. che ha questo contenuto. Sono 98.000 parole che contiene tutte le parole o tante delle parole della lingua inglese. E quindi supponiamo che questo sia il nostro dizionario di riferimento. e vogliamo verificare, come ci chiede l'esercizio, di prendere il testo magari di Alice nel parere delle meraviglie e controllare se dentro quel libro ci sono tutte parole, diciamo così, permesse, tutte le parole lecite della lingua inglese oppure ci sono delle parole che sono scritte male, che hanno degli errori di spelling. Allora, in questo caso dovrò fare che cosa? Dovrò prendere un secondo file che contiene il testo di Alice nel parere delle meraviglie. quindi torniamo indietro anche qui, datemi un secondo che prendo il file che mi ero preparato poi quando alla fine della lezione ovviamente quando vi distribuisco questo c'è un po' bloccato il browser quindi cominciamo a preparare il file story.txt terminiamolo mi si è bloccato il browser un secondo su, vai bravo parca il bio nel frattempo cominciamo a preparare un programma in python ok allora eccolo qua mentre l'altro browser cerca di caricare ma sembra che anche qua GitHub dove aveva salvato questi file oggi aveva dei problemi anche lui quindi oggi è una giornata abbastanza funesta per i servizi online allora noi vogliamo creare un programma che analizzi il testo presente nel libro story.txt e mi stampi le parole che grammaticalmente sono scorrette lessicalmente scusate la parola lessicalmente sono scorrette ossia non compaiono nell'elenco chiamato parole presente nel file che si chiama parole ok quindi noi possiamo avere un file il nome del file delle parole noi sappiamo che si chiama il chiamato parole senza estensione uguale a parole il nome del file della storia tra story.txt quindi noi possiamo pensare l'idea qual è? l'idea è quella di costruire un insieme contenente tutte le parole del zionario un altro insieme contenente tutte le parole della storia perché parlo di insieme non di lista? perché non mi interessa se la parola sbagliata compare per prima a metà o in fondo mi interessa solamente quali parole ci sono ok quindi se diciamo così la prima lo possiamo chiamare dizionario la seconda lo potremmo chiamare storia allora che operazione dobbiamo fare? beh se non ci sono errori vorrà dire che io mi aspetto che storia sia un sotto insieme del dizionario se invece ci sono errori allora ovviamente non è un sotto insieme perché se non è un sotto insieme vuol dire che esistono parole nella storia che non sono nel dizionario e questi sono gli errori di questi sono gli errori di battitura ovviamente se ci sono errori quindi gli errori di battitura sono la differenza tra il dizionario meno la storia l'insieme delle parole presenti nel dizionario meno l'insieme delle parole presenti nella storia e quindi posso usare in questo caso come suggerisci ad aria l'operazione di differenza tra due insiemi quindi mi costruisco i due insiemi poi faccio la differenza attenzione facendo questa differenza cosa ottengo? ottengo l'elenco delle parole in un ordine non alfabetico ma le posso ordinare dopo che sono presenti in una storia e non erano presenti nel dizionario sono presenti nella storia e non erano presenti nel dizionario e una volta sola ciascuna quindi se una parola l'ho scritta sbagliata dieci volte nel momento in cui costruisco l'insieme quindi questo elenco di parole lo faccio diventare un insieme allora diventerà automaticamente una volta sola comparirà una volta sola quindi alla fine ti saprò dire guarda che la parola che ne so gatto l'hai scritta male perché è scritta con 3T ma non ti saprò dire se questo errore di scrittura l'hai scritto 1, 2, 3, 4 volte se mi servisse anche questa informazione allora dovrei tornare alla rappresentazione avere anche una rappresentazione su forma di vista almeno della storia perché nel dizionario si presume che non ci siano più volte gli stessi elementi ma nella storia ci possono essere allora potrei avere una rappresentazione come lista in cui vado a cercare quante volte con un count ricordate il count lo facevamo già nelle prime settimane vado a contare quante volte quell'elemento lì che so già che è sbagliato in realtà compare nella storia Jacopo mi fa notare che forse devo fare storia nel mio dizionario sì hai ragione assolutamente quindi sono le parole che sono nella storia ma non erano nel dizionario vediamo se nel frattempo ok benissimo qui ho il testo della storia di Alice nel Paese delle Meraviglie che l'ho incollato qui devo solo cancellare un po' di testo all'inizio che diceva guarda l'ho preso da qui l'ho preso da là ma togliamolo perché non fa parte della storia adesso bravo eccolo qua inizia qua la storia col titolo e tutta la storia di Alice che se per chi ha pazienza allunga 3000 righe 3500 righe quindi ci sono parecchie parecchie parole diciamo al suo interno ok allora partiamo da qua noi abbiamo dobbiamo costruire due insiemi uno di parole e uno di parole della storia uno di parole del dizionario l'altro di parole della storia e poi lavoriamo sugli insiemi quindi potremmo pensare di fatemi sfumare questo in un commento che è il nostro ragionamento di partenza definire in una funzione che mi calcola un insieme a partire da un insieme di parole a partire da un file poi la uso due volte la prima la uso sul dizionario la seconda la uso sulla storia quindi chiamiamola parole uniche del file questa funzione quindi cosa dovrà fare dovrà diciamo come commento dato il nome di un file restituisce un insieme che contiene le parole uniche presenti nel file per ora non la implemento vediamo un attimo come usarla poi torniamo a implementarla restituisce un insieme la parola chiave di oggi è questa e quindi noi potremo nel mio programma main a questo punto diventa molto semplice perché dico che il dizionario non è altro che l'insieme delle parole uniche che estrago dal file parole la storia non è altro che l'insieme fatto dalle parole uniche che estrago dal file della storia e poi implemento ciò che avevamo detto qua se per caso la storia è un sotto insieme del dizionario quindi nella storia ci sono solo elementi che sono anche nel dizionario storia punto is subset di dizionario allora dirò che la storia non ha errori di spelling sia un italiano versicale altrimenti potrò sapere quali sono le parole sbagliate calcolando la differenza tra la storia e il dizionario quindi storia punto differenze come si chiamava tornare sulle slide perché a memoria non ricordo mai tutti i metodi differenze t differenze di dizionario e quindi a questo punto dirò che le parole sono e poi posso stampare il valore del magari un sorted di parole sbagliate quindi stampo in ordine alfabetico allora in questo due o tre punti che avete sollevato nei commenti ciò che resta Matteo dice ciò che resta in storia sono le parole sbagliate no storia non viene modificata dall'operatore di difference storia continua a contenere tutte le parole quando faccio difference sto costruendo un nuovo insieme che memorizzo qui e questo parole sbagliate conterrà le parole sbagliate mentre storia continua a contenere tutte le parole cioè non l'ho modificato ok Antonio mi dice dalla storia non si devono togliere tutti i segni di punteggiature caratteri vari questo sì anzi anzi inoltre dovremmo invertire tutto in maiuscolo oppure tutto in minuscolo questo è un lavoro che facciamo fare alla funzione parole uniche ecco per ricordarci che lo dobbiamo far fare e non l'abbiamo ancora scritta abbiamo fatto finti di averla ma non ce l'abbiamo dovremmo scrivere anche attenzione deve rimuovere tutti i segni di punteggiatura e quindi dovremo implementare questo quindi l'idea dell'algoritmo è questa lavorare con insiemi adesso se diciamo così non troviamo errori logici in questo algoritmo il passo successivo è semplicemente quello di implementare questa costruzione dell'insieme che poi è molto simile all'operazione che abbiamo già visto fare nel senso che nel caso del file delle parole è molto facile perché sono tutte una parola un file fatto da una parola per riga quindi quando leggerò una riga questa read line in realtà mi dà già la singola parola che dovrò convertire convertirò in minuscolo così non ho problemi nel confrontarle e non ho punteggiatura quindi cominciamo a fare la versione che funzioni solamente col dizionario poi cerchiamo di andare a controllare quali sono i segni di punteggiatura che dobbiamo rimuovere e faremo una versione che funzionerà anche per la storia ok quindi la stessa funzione poi la renderemo più complicata facciamo una versione semplice e poi la rendiamo più complicata allora sul dizionario noi dobbiamo abbiamo il nome del file file anzi magari se vogliamo proprio se spessi chiamiamolo nome il file ricordiamoci che l'abbiamo già visto anche in esercizi la volta scorsa dove c'era il file che conteneva i nomi degli altri dobbiamo mentalmente sempre si assicuri se la variabile sta contenendo in questo momento il nome del file oppure l'oggetto python che serve per accedere al file progetto che viene restituito dall'operazione di open qui noi abbiamo la nostra open quindi file open di nome file in lettura questo ovviamente può funzionare oppure no quindi magari abbiamo imparato a metterla in una try except nel caso in cui ci sia un io error scusate io error allora dovrò stampare errore nell'apertura di file del file ovviamente si doppia perché c'è un apostrofo dentro mettiamoci anche un F qua un appice singolo maledizione queste cose qua che si fanno da sole poi nome file ecco questo mi dà l'occasione di ricordare di tornare un attimo sulla gestione dell'errore chiaramente ci accorgiamo se l'open fallisce stampiamo un messaggio di errore e la volta scorsa dicevamo dobbiamo dare dobbiamo cercare di fare in modo di capire come recuperare questo errore allora come si fa a recuperare questo errore in questo caso direi che non si può nel senso che il nome del file è scritto dentro il programma e quindi l'unico se il file non esiste non c'è altro modo che andare a modificare il programma quindi in questo caso mentre in altri casi se il file non esisteva potevo chiedere all'utente il nome del file o altre cose qua non è previsto che l'utente inserisca il nome del file e quindi non ho nessun modo di correggere questo errore allora un modo a questo punto cosa posso fare sarebbe sbagliato che io continuassi il programma allora c'è questa funzione exit che possiamo chiamare che interrompe l'esecuzione del programma non l'abbiamo mai vista prima però si usa molto spesso quando voglio bloccare il programma è come interromperlo di brutto in quel momento non lo faccio più continuare perché non ha più senso continuare da qui in poi quindi è un errore che viene a questo punto gestito scrivo il messaggio e interrompo il programma molto più che break break ti fa uscire da un loop da un while o da un for exit ti fa proprio terminare il programma come se cliccassi sul quadrato rosso lo fa stoppare lo fa uscire ok quindi in questo caso non è nulla da fare e quindi termino il programma se invece funziona a questo punto posso leggere il contenuto del file e quindi vado a leggere ad esempio lo possiamo leggere per linee for line in file una riga per volta e dunque ogni linea in questo caso la dovrei spezzare in parole in questo caso so che c'è una parola solo per riga però in generale devo avere le parole di questa linea le ottengo come una line r strip ne parlavamo una volta scorsa devo eliminare il carattere di fine linea che c'è a destra e poi la divido dove ci sono gli spazi in questo caso mi darà una lista che contiene le singole parole di quella riga sotto forma di lista in questo caso nel caso del file parole conterrà la lista la lista conterrà un elemento solo perché la r street cancella il carattere di fine linea la split cerca degli spazi ma non li trova e quindi mi restituisce una lista di un elemento solo questi elementi queste parole gli elementi di questa lista dovranno essere aggiunti a un insieme che via via devo costruire quindi lo devo innanzitutto creare crea un insieme vuoto e poi aggiungo a questo insieme le singole parole che ho trovato nella lista quindi prenderò un ciascuna di queste parole itero su queste parole per ciascuna parola che trovo dentro a questa lista di parole aggiungo l'insieme la parola magari mettendola in minuscolo quindi ho due cicli il ciclo più esterno mi naviga le linee del file il ciclo più interno mi per ogni linea la spezzo nelle sue parole il ciclo più interno mi prende una parola per volta la converte in minuscolo parola punto lower e la aggiungo già l'insieme alla fine di tutto questo dovrò chiudere il file ricordiamoci che il for mi itera fino all'ultima linea del file quindi file.close e poi ritornare l'insieme che ho creato ok questo dovrebbe funzionare con un file di questo genere o comunque file che non contengano caratteri di punteggiatura se invece dovesse contenere caratteri di punteggiatura purtroppo dobbiamo ancora complicare questa funzione ma magari cominciamo a testarla così che dite perché io non vorrei scrivere troppa riga abbiamo già scritto 42 righe di codice senza mai provarla e io comincio a essere a disagio ok quindi fatemi commentare questa parte qui e proviamo solamente a scrivere così print dizionario e vediamo se questa parte di programma funziona fa quello che ci immaginiamo che faccia ok poi se funziona andiamo a ripristinare e aggiungiamo la gestione della punteggiatura cerchiamo di capire come farlo qual è il modo migliore per farlo ok allora facciamo un run di spellcheck e mi stupisce perché non ho stampato nulla vediamo un po' cosa abbiamo ah si non ho chiamato il main certo grazie ok stranamente non ho dato errori e mi ha stampato un insieme adesso ovviamente l'inizio non c'è già più perché era troppo lungo però vediamo la fine riconosciamo il fatto che sia un insieme dal fatto che finisce con una parentesi graffa chiusa quindi sarà iniziato con una parentesi graffa aperta che contiene queste varie parole alcune delle quali possono contenere un apostrofo però per come è costruito questo dizionario l'apostrofo fa parte della parola hanno deciso di costruirlo così e noi l'abbiamo osservata questa regola perché abbiamo separato solamente in presenza degli spazi l'apostrofo l'abbiamo tenuto come parte della parola e vediamo ovviamente che mentre ci stupisce un pochino perché mentre l'elenco delle parole era tranquillamente bello ordinato in ordine alfabetico queste parole qua che abbiamo ottenuto invece sono tutte in ordine mescolato però questa è la caratteristica dell'insieme ok quindi qui fin qua funziona allora Antonio non ancora questi non sono ancora errori qui ho solamente stampato il dizionario quindi devo ancora finire di leggere la storia per controllare gli errori qui ho solamente voluto verificare che la lettura del dizionario fosse corretta l'ho messa in minuscolo nel dizionario perché voglio anche che quando poi la confronterò con la parola che è presente nella storia io non so se la parola nella storia sarà scritta in maiuscolo o in minuscolo quindi devo portare tutto in minuscolo per evitare che venga segnalata come errore una parola che nel dizionario in maiuscolo e nella storia invece è minuscolo ok ok adesso vediamo come complicare la nostra funzione parole uniche tenendo conto che nel mio file della storia Alice con l'apostrofo va bene Adventure può andar bene 3.0 un numero quindi probabilmente verrà segnalato come errore però ci sono dei segni di punteggiatura qui c'è una virgola qui c'è un punto interrogativo poi ci sono degli apici allora immaginiamo di prendere una riga come questa una riga come questa verrà spezzata se io la prendo andiamo nella console avrò una linea anche di questo genere vediamola così e conterrà anche una capo in fondo questo è ciò che leggo dal file cosa fa la mia funzione? la mia funzione sulle linee fa questo lavoro qua allora se io provo a fare questo lavoro qua nella console cosa ottengo? ottengo questo elenco di stringhe la prima va bene la seconda va bene la terza beh no c'è un carattere davanti che non mi serve dovrei togliere poi pictures va bene or con l'apostrofo e conversation con il punto interrogativo e l'apostrofo dentro quindi a questo punto cosa dovrei fare? dovrei prendere e quindi sicuramente questa parola con l'apostrofo davanti verrebbe segnata errata ma in realtà non c'è motivo dovrei semplicemente togliere questo questo carattere e così come anche quest'altra che ha addirittura due caratteri finali il punto interrogativo e l'apostrofo che non dovrebbero esserci e dovrei togliere allora cosa posso fare? posso pensare di ripulire ogni parola prima di di aggiungerla quindi io qua in questo ciclo dopo che ho trovato questa lista e prima di aggiungerla l'insieme mi calcolo una parola pulita con una funzione pulisci della parola e poi ovviamente aggiungerò alla lista l'insieme la parola pulita convertita in minuscolo e quindi questa funzione di pulizia questa pulisci che cos'è? dovrà togliere dall'inizio e dalla fine della stringa tutti i caratteri che non sono alfabetici solo dall'inizio e solo dalla fine ok allora possiamo provare a scrivere insieme pulisci parola quindi rimuove rimuove tutti i caratteri iniziali e finali della stringa non alfabetici da una stringa allora facciamo prima iniziale e poi i finali ok allora la parola pulita uguale parola parola è una stringa quindi non ho problemi di confusione tra alias e modifiche e invece copie ok ricordiamocelo che se questa fosse una lista dovremmo chiederci ma qui mi serve un alias oppure probabilmente mi sarebbe una copia perché la stiamo modificando questa è una lista è una stringa quindi non la possiamo comunque modificare dovremmo creare una nuova e quindi io posso chiedermi il primo carattere di questa stringa è un carattere non alfabetico lo devo togliere? sì allora finché il primo carattere questo ipotetico pulita di zero il primo carattere non è alfanumerico quindi not finché il primo carattere non è alfanumerico lo tolgo quindi pulita uguale pulita uno in poi dal primo carattere in poi e così tolgo questo itero se avessi più caratteri non alfabetici all'inizio della stringa per ogni iterazione ne tolgo uno e poi faccio la stessa cosa al fondo while not pulita di l'ultimo carattere meno uno alfanumerico lo tolgo pulita uguale pulita dall'inizio fino all'ultimo carattere escluso quindi se non mi sono sbagliato sta roba qua ritorna la parola pulita dobbiamo un po' testare sta roba qua sulla nostra fatemi definire ho fatto copia ancora della funzione nella console così me la definisco nella console e provo a chiamare pulisci di ciao mi istituisce ciao ciao virgola punto interrogativo mi istituisce ciao due punti trattino davanti ciao punto interrogativo ciao se però la punteggiatura fosse a metà della parola sapete che nella storia di Alice c'erano molte lettere con l'apostrofo S me la lascia perché toglie solamente i caratteri non alfabetici che sono all'inizio e alla fine questo è un modo è un modo che non è neanche del tutto esatto esattissimo perché rabbit hole in realtà sono due parole separate due parole diverse separate da un trattino nel nostro metodo verrebbero considerate una parola sola daisy chain anche eventualmente la modifichiamo per carità rstrip si potrebbe usare rstrip e lstrip si potrebbe usare come mi state dicendo nella chat il problema di rstrip e lstrip è che gli devo dire quale carattere togliere quindi dovrei fare rstrip di virgola poi punto rstrip punto e virgola rstrip due punti rstrip punto interrogativo rstrip punto esclamativo e così via devo elencare tutti i caratteri che voglio togliere perché rstrip mi cancella un carattere o una sequenza di caratteri ma se io facessi rstrip di punto virgola due punti o punto e virgola non funziona come vorremmo noi vorremmo che mi cancellasse da destra tutti i punti le virgola i due punti eccetera invece no lei la rstrip cancella questa sequenza di quattro caratteri se la trova identica tale quale che non succederebbe quasi mai il problema dei trattini Emanuele propone di sostituire i trattini con spazi prima di prima di fare la split questo forse potrebbe essere un modo sì direi che non fa male non fa male quindi sì prima dello split bisognerebbe anche andare a controllare che i trattini non compaiono da altre parti però sembra una buona idea quindi quando io faccio lo split prima dello split faccio un replace dei trattini di trattino virgola spazio e quindi dove c'era trattino adesso vedo spazio quando faccio la split rompo le parole a Matteo non piace come ho fatto io la pulisci e lui mi dà un suggerimento diverso dice dichiarare su ogni carattere della parola per comprendersi al numerico e in ogni carattere aggiungerlo a una variabile nuova è un altro modo si potrebbe anche fare io ho preferito ragionare per sottrazione prendo una stringa e tolgo quello che non mi piace tu preferisci lavorare per addizione guardo la stringa e prendo solo ciò che mi piace fai attenzione agli apostrofi a metà parola perché l'apostrofo a metà parola lo vogliamo tenere mentre invece col tuo approccio probabilmente lo cancelleresti e agganceresti la S al resto della parola non conserveresti più l'apostrofo perché noi l'apostrofo se in fondo lo voglio togliere se a metà cioè come più ultimo carattere prima della S lo voglio ottenere però vabbè sono tutti casi particolari che possiamo andare a vedere però qui stiamo facendo troppe parole magari il nostro codice è sbagliato quindi è meglio provarlo allora tolgo questa print del dizionario abilitiamo la storia e riabilitiamo tutta la parte precedente e togliamo i commenti da tutta la parte precedente quindi parole quando chiamo parole uniche sul file della storia a questo punto mi leggerà il file della storia e dovrebbe fare quest'operazione in più rispetto prima il replace e il pulisci dico dovrebbe perché finché non lo vedo infatti infatti ho un errore qua alla riga 38 che non mi dice string index out of range alla riga 38 la riga 38 c'è pulita di 0 com'è possibile che mi dia un interest out of range quando gli sto prendendo il primo carattere è perché magari la stringa è vuota può darsi che la parola sia una stringa vuota quando magari ci sono più più separatori consecutivi o casi del genere oppure no no se vi sto parlando di cose consecutivi non potrebbe non dovrebbe succedere perché la split è già intelligente non mi dà la stringa vuota sono tre spazi di fila quello che succede è che se la parola eccola qua non ce l'avevamo già nella console se io provassi a fare pulisci pulisci di punto 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 cancello il punto cancello il punto cancello il punto e poi non è rimasto più nulla né da cancellare né da né da lasciare e quindi mi dà questo errore quindi può capitare che sia arrivata qua una stringa che non non conteneva nessuna lettera alfabetica e quindi questo lo devo controllare ma lo controllo facilmente nel senso che while lendi pulita maggiore di zero and e lo giungo ovviamente anche sotto perché lo stesso problema avrò sotto quindi finché ho caratteri e il primo carattere non alfabetico oppure finché ho caratteri e l'ultimo carattere non è alfabetico lo vado a togliere ok per come funzionano gli operatori booleani nel caso in cui questa prima condizione sia falsa quindi sia lunghezza sia arrivata a zero la seconda condizione l'end sa già che è falso e quindi non va neppure a guardare la seconda condizione e quindi questo pulita di zero non viene mai eseguito quindi non cerco mai di leggere un carattere che so già che non c'è quindi questo end lavora in modo sequenziale da sinistra verso destra prima controllo la prima condizione se è passata la prima allora vado a controllare la seconda se la prima non è passata è già falsa regola di cortocircuito degli operatori booleani so già che il risultato sarà falso e la seconda condizione non la guardo neppure non la guardo e quindi non genererò l'eccezione questo a parole vediamo in pratica se è vero le parole sbagliate sono stringa vuota vabbè questo è un errore dovremmo togliere 3.0 afore afterwards a room atlin bar food beauty center eccetera eccetera c'è un certo numero di parole sbagliate che questi qua sono i numeri romani delle pagine che non c'erano nel testo e non possiamo andare a riconoscere e ci sono altri che adesso qua center in realtà sembra una parola giusta quindi andiamo a vedere se c'era se abbiamo sbagliato qualcosa nel dizionario center non c'è magari è scritto perché center è scritto così è scritto l'inglese magari nel dizionario è scritto l'americana dai su c'è 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 e quanti numeri quanti parole con la c vabbè cerchiamo find center vabbè ho fatto più danno che altro partiamo dall'inizio center center non c'è center invece c'è quindi nel dizionario c'è tutta una variazione di center scritto all'americana ma non ho nessun center scritto all'inglese quindi hanno preso un dizionario americano per controllare una novella inglese non è forse il massimo della della coerenza però non ci può stare e queste altre parole vabbè posso capire che non ci sia afterword mi incuriosisce un pochino afterword che è scritto senza la s quindi anche lì probabilmente sono due spellin diversi uno che senza la s l'altro con la s della stessa parola ma giustamente il nostro il nostro programma se ne accorge quindi l'unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è perché mai è finita qua dentro una stringa vuota ma secondo me è lo stesso problema di prima quando avevamo la la parola fatta solo di punteggiatura questo ritorno pulita mi ha cancellato tutte le punteggiature e mi ha restituito una stringa vuota questa stringa vuota va bene la funzione pulisci ha fatto il suo lavoro ma poi non la devo aggiungere all'inizionario quindi andrò ad aggiungere ancora un if parola pulita diverso da stringa vuota allora lo aggiungo altrimenti non lo aggiungerò all'insieme e quindi rifacciamo eseguire il programma e stringa vuota non me la fa più vedere qui l'ho stampato come come lista ordinata per averla in ordine alfabetico però ricordiamoci che se stamparsi direttamente le parole sbagliate sarebbero insieme e quindi non aspettiamoci di vederlo così in ordine sarebbero totalmente le stesse ovviamente le stesse identiche ma in un ordine meno decodificabile meno prevedibile ok quindi però un pochino più facile vederle così così ok quindi abbiamo speso probabilmente i primi due minuti a pensare all'algoritmo ah questo problema si può risolvere facendo la differenza tra due insiemi e speso il resto del tempo a ripulire string e dati letti dal file e pensare al formato dell'input separatori e tutte queste belle cose molto spesso è così non si perde molto tempo nei dettagli per ogni volta che poi uno va a vedere ne scopre degli altri c'è quel 3.0 che ci dava fastidio no? però lo vogliamo togliere allora dovremmo riuscire a fare in modo di non inserire nell'insieme oppure togliere l'insieme dopo lo inserite parole che non siano costituite solo da non so lettere ma c'è il famoso apostrofo S il famoso apostrofo che invece è giusto che ci sia quindi non è facilissimo anche definire una regola però no questa è una base da cui poi si può continuare se noi avessimo Michele mi chiede perché abbiamo usato IsalNum anziché Isalfa buona domanda buona domanda infatti se avessimo usato Isalfa probabilmente avremmo risolto anche il problema del 3.0 sì perché le cifre numeriche non ha senso che siano le parole se usi Isalfa le considero come se fossero punteggiatura sì mi sembra un ottimo suggerimento e così abbiamo tolto con un costo relativamente basso il 3.0 grazie dell'idea proviamo a pensare se questo stesso problema l'avessimo dovuto fare con le list anziché con gli insiemi cosa sarebbe cambiato sarebbero cambiate sostanzialmente due cose la prima cosa è qui quando inseriamo un elemento una parola nell'insieme e noi qua non ci stiamo minimamente curando del fatto che quella parola sia già presente oppure no perché sappiamo che l'insieme tanto se la sto inserendo per la seconda volta non fa nulla ignoro l'operazione se questa fosse una lista avrei dovuto mettere un controllo in più se la parola not in insieme allora append allora aggiungila come abbiamo già fatto in esercizi precedenti quando aggiungo gli elementi evitando i duplicati allora ogni volta prima di aggiungere l'elemento devo controllare se esiste e su liste molto lunghe come queste sono liste che abbiamo visto che sono appunto di il file parole sappiamo che ha 98.000 righe quindi abbiamo 98.000 parole ogni volta che faccio in su una lista gatto in dizionario e lui si deve scorrere tutta la lista andando a cercare se c'è quell'elemento quindi quando siamo verso la fine della lista quel ing se la parola ing dizionario costa ogni volta scandire una lista di 100.000 elementi quindi molto più lento tutto questo un dizionario un insieme lo fa in modo istantaneo senza dover scandire tutti gli elementi questo è il motivo interno che non ho gli elementi per potervi spiegare a questo punto della vostra conoscenza ma è il motivo interno per cui gli elementi sono disordinati non sono in ordine perché sono memorizzati in un ordine tale per poter rendere il controllo se un elemento c'è o non c'è istantaneo senza doverli guardare tutti è basato su una funzione di hash per chi è più curioso e vuole andare a scoprire i trucchi che ci sono dietro le quinte quindi questa sarebbe la prima differenza e ce ne accorgeremmo dalla velocità di elaborazione su queste dimensioni di dati se ho 5 dati ovviamente non me ne accordo la seconda differenza se avessimo svolto questo esercizio ieri quindi non conoscessimo ancora gli insiemi sarebbe in questa linea qua ovviamente e anche in quell'altra il subset cioè sapere se tutti gli elementi di una lista sono contenuti in una seconda oppure no sarebbe stato un doppio ciclo con un flag e analogamente trovare tutte le parole che sono un elenco e non un altro elenco sarebbe anche qui stato un doppio ciclo con dei flag devo costruire una lista aggiuntiva eccetera eccetera che sono le cose che facevamo diciamo così fino alla settimana precedenti e che dovremmo ancora fare se dovessimo lavorare con delle liste perché magari dobbiamo mantenere l'ordine degli elementi ma in questo tipo di esercizio invece possiamo semplicemente usare il concetto di più alto livello faccio una sottrazione verifico se siamo sotto insieme quindi se volete potete provare a farlo anche per esercizio per vedere quanto è più macchinoso implementare il subset e la differenza ma se andate nei lavoratori precedenti li riconoscete questi due pezzettini in alcuni esercizi che vi avevamo dato in passato che non sono difficilissimi sono quattro righe o cinque però devi ragionare sul doppio ciclo sul flag non è facile da scrivere giusto al primo colpo far funzionare correttamente al primo colpo quindi questi sarebbero due motivi per cui qua in questo tipo di esercizio troviamo molto più comodo usare insieme chiaro che tutta la parte di pulizia delle stringhe non ci possiamo far nulla quella è una operazione da fare carattere per carattere e poco altro ok su questa base degli insiemi noi andremo avanti domani costruendo la struttura dati successiva che è quella adesso qui ecco questa slide è quello che dicevamo prima proprio sull'operazione di aggiunta quando faccio adesso un insieme è molto più efficiente che fare un append su una lista dopo aver controllato se l'elemento c'è già oppure non c'è ancora ok qui c'è un altro un altro esercizio ma lo vedremo un po' più avanti ma da domani essenzialmente rivedremo costruiremo su quello che conosciamo degli insiemi costruiremo i dizionari che altro non sono che insiemi a cui ciascun elemento viene associato un valore informativo un valore aggiuntivo però questo lo dobbiamo scoprire domani alle 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 10 le due o tre domande pendenti in chat rispondo subito dopo la chiusura della lezione tanto sono cose che si possono rispondere facilmente sulla chat della lezione quindi vi saluto e ci vediamo domani alle 10 del mattino buona serata domani alle 10 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 domani alle 10